Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, decima parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato a Martin Heidegger. Ci eravamo lasciati raccontando che Heidegger chiama imposizione il modo di disvelamento che vige nell'essenza della tecnica moderna. L'imposizione non ha nulla di tecnico, ma è solo il modo in cui il reale si disvela come fondo. Il gestel, parola che letteralmente significa suppellettile o scaffale e che più in generale si può tradurre come struttura o impianto costruito dall'uomo, è una imposizione. Il gestel è un atteggiamento che spinge l'uomo a prendere il controllo di ogni elemento della natura, di ogni energia e perfino degli stessi uomini, al fine di immagazzinarli, modificarli e nuovamente impiegarli. Il gestel soffoca quindi la spontaneità della crescita delle cose della natura. Prima di proseguire, come sempre, vorrei ringraziarvi per aver scelto di guardare il mio video, per la pazienza che avete con la pubblicità e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon. Libri e pubblicità sono un modo per sostenere il canale e quindi grazie in anticipo per ogni vostro contributo. In quanto l'imposizione è la provocazione all'impiegare l'impiegabile, l'imposizione manda al disvelamento. L'uomo è quindi governato dal destino del disvelamento e di conseguenza l'essenza della tecnica consiste proprio nell'imposizione come destino del disvelamento. Ricordiamo che il termine essenza indica quelle determinazioni di una cosa che ne costituiscono la natura, o per dirla con Aristotele, ciò per cui una certa cosa è quello che è e non un'altra cosa. L'essenza della tecnica non è però una costrizione, perché, con parole di Heidegger, essa è l'accadere del disvelamento, ossia della verità, ciò con cui la verità ha la parentela più stretta e più profonda, chiuse le virgolette. Secondo Heidegger ci troviamo quindi nella libertà del destino. Ciò che costituisce l'essenza della tecnica per Heidegger è però un pericolo, ma non un semplice pericolo, bensì il pericolo. Pericolo di perdere l'essenza dell'uomo è pericolo di perdere l'essenza della verità. Si ha il pericolo di perdere l'essenza dell'uomo quando il disvelato si presenta esclusivamente come fondo e l'uomo appare soltanto come colui che amministra il fondo. E si ha il pericolo di perdere l'essenza della verità quando l'uomo non si accorge che il gestel è solo la modalità nichilista del disvelamento e quindi l'essere come tale non è più nulla. In quest'ultimo caso la tecnica va a coincidere con il nichilismo compiuto, che porta a un oblio dell'essere. Si diffonde infatti l'apparenza che tutto ciò che si incontra sussiste soltanto in quanto è un prodotto dell'uomo e questa apparenza fa maturare un'ultima ingannevole illusione, quella per la quale sembra che l'uomo, dovunque, non incontri più altri che se stesso. A questo punto Heidegger, citando i versi di Alderlin che recitano, aperte virgolette, ma là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva, chiuse le virgolette, afferma che è proprio nell'essenza della tecnica che alberga il possibile sorgere di ciò che ci salva. Dobbiamo quindi, anziché restare affascinati dalle cose tecniche, prima di tutto cercare di comprendere l'essenza della tecnica, perché continuando a pensare la tecnica come uno strumento, si rimane legati alla volontà di dominarla e non se ne comprende l'essenza, essenza come imposizione. Se da un lato l'imposizione provoca a impegnarsi in un frenetico impiegare, che impedisce la visione del disvelamento, minacciando così il rapporto con l'essenza della verità, dall'altro la stessa imposizione accade in quel concedere che fa sì che proprio l'uomo divenga l'adoperato per la custodia dell'essenza della verità. Poiché l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico, bisogna che la meditazione su di essa avvenga in un ambito che da un lato le è affine e dall'altro ne è fondamentalmente distinto. In quest'ottica, a partire dal senso originario della parola tecnica, dal greco tecne, cioè arte nel senso di perizia, di saper fare, Heidegger ne riscopre l'affinità con la poiesis, termine che, come oramai sappiamo, indica l'azione di un ente su un altro ente al fine di generare qualcosa. Entrambe le parole nell'antica Grecia indicavano generalmente la produzione del vero e del bello, e quindi l'arte, la via di salvezza che Heidegger propone all'uomo moderno. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il saggio del 1953 intitolato La questione della tecnica. Nel 1955 viene pubblicato l'intervento di Heidegger in una conferenza dello stesso anno con il titolo L'abbandono. In questo saggio Heidegger ritorna sulla questione della tecnica, per mezzo della quale l'uomo mette in pericolo se stesso cercando di ottenere l'egemonia sull'ente. Atteggiamento che, egli osserva, ha infatti portato l'umanità sulla soglia dell'era atomica. Il pensiero di Heidegger in questa fase diventa quasi mistico, tanto che in una celebre intervista dichiara, aperte virgolette, ormai solo un Dio ci può salvare, chiuse le virgolette. Parole che per molti critici sarebbero da interpretare nel senso di una assenza di ogni possibilità di sfuggire agli effetti catastrofici della tecnica. Di fronte ai pericoli del predominio della tecnica, dice Heidegger, è quindi necessario ritornare a un'etica originaria, attraverso due tipi di comportamento. Il primo è la gelassenheit, che è stato tradotto in italiano con il termine abbandono. Si tratta di una disposizione mentale che rifiuta l'atteggiamento proprio della tecnica, cioè quello del freddo calcolo, al fine di rimeditare la relazione fra l'uomo e l'ente nell'ottica di un lasciar essere le cose così come sono, senza intervento alcuno da parte dell'uomo sull'accadere della realtà. Il secondo è l'apertura al mistero, nel senso di mantenersi aperti alla possibilità di una nuova manifestazione della verità dell'essere, che potrebbe scaturire proprio dall'atteggiamento dell'abbandono. Heidegger identifica nella poesia il mezzo che ci può far riaccostare all'essere, in quanto la poesia, come forma originaria di linguaggio, mantiene ancora intatta la vivacità dell'essere. E questo è tutto per quanto riguarda l'opera L'abbandono del 1955. Tema principale delle ultime opere di Heidegger, tra le quali ricordiamo In cammino verso il linguaggio del 1959, La questione del pensiero del 1969 e Segna via del 1976, è quello dell'importanza della riflessione sull'arte e sul linguaggio. Il linguaggio, che Heidegger chiama la casa dell'essere, non è semplicemente uno strumento che l'uomo usa a suo piacimento per indicare ed esprimere qualcosa, ma soprattutto nel linguaggio poetico vengono alla luce i significati e i valori di intere epoche storiche. Heidegger muore a Friburgo nel 1976, all'età di 87 anni. Bene, con questo video abbiamo concluso l'episodio di Non puoi non saperlo dedicato a Martin Heidegger. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre un sincero grazie per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!